La tecnologia 3D con l'ausilio delle metodiche CAD CAM oggi è ampiamente utilizzata nella ricostruzione del volto. È uno strumento di sicuro aiuto per il chirurgo esperto ma certamente non sostituisce i chirurghi poco esperti. La tecnologia 3D ci permette di elaborare le immagini ed eseguire degli interventi virtuali prima di andare in sala operatoria in modo da avere tutte le informazioni necessarie durante l'intervento per eseguire nel modo più corretto l'intervento che abbiamo programmato. Come possiamo vedere in questo caso questo modello tridimensionale che riporta la mandibola di un paziente in cui è stato eseguito un intervento virtuale nel preoperatorio di resezione e di ricostruzione con un lembo libero di fibula, un lembo libero osseo e questo ci ha permesso di ottenere delle informazioni tali per cui abbiamo eseguito in modo più accurato ed agevole il nostro intervento chirurgico.